La ditta Decoraredo di Eramorocco, via Mauro Fasano 18 Castellaneta, è a vostra completa disposizione con un grande assortimento di carte da parati, moquettes, cornici e rosoni in gesso, rivestimenti plastici in genere, materiali di rivestimento contro l'umidità, il tutto per mettere a nuovo e per abbellire la vostra casa a prezzi competitivi. La ditta Decoraredo, per ovviarvi il problema, esegue a domicilio la messa in opera di detti materiali con il suo servizio applicazioni. Ricordate, ditta Decoraredo di Eramorocco, via Mauro Fasano 18 Castellaneta, è la vostra casa ritornerà come nuova. Grazie per la visione!